ed eccoci qui in un nuovo episodio dei video di bell'occhio oggi non so cosa fare perciò mi dovrei inventare qualcosa in questi attimi ehm però internet risolve sempre tutto perchè ho messo questo vi prego non vedete quello che c'è tutto il diavolo ecco oggi devo decidere ancora che giocare perchè come sempre sono impreparato una faccio il video e dico oddio però adesso che faccio super mario bros boss allora vediamo cosa fare non lo so cosa io posso cosa fa ok mario bros 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 Londra il truco vengiamola immediatamente muovo santo non che potesse farse altre pareti oh mio dio ehi e adesso come faccio ok ehi quella da dove ah lasciamo stare ah che cavolo ma non da capo cioè non da capo 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 ma da ma poi i dividi di mare sono infiniti quindi è da spasso porca miseria che l'italiano sto parlando non è italiano perché non provare ad andare ecco 3 combo oddio non è rispetto alla tentazione non sboga più ma ehi io in genere attimo scavo tipo di sotto ma adesso adesso ma è veramente ecco 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 però no oh questo non è apririzio non ti fa scendere ma che cavolo si fa wow lo fasca oddio no per favore no mentre faccio dai non mi ricordo più come cavolo non è che si è cacco no ecco basta dove sarò tutte le palle proprio maio vediamo un po' non c'ho mai giocato giocato 774 4889 scegli tra nuoto ma che è? che roba è? ah ho provato allora metti titarica play si va bene no allora ehm goombayles come diavolo si gioca ah insomma tipo ah su nuora c'è un fungo aiuto cosa ne sono ehi questo non era ma da chiede ma da giù dai dai non me ne posso vedere ma da chiede ce lo dice faccia posto basta finiamo qui il video poi lo rifaccio